Votate questa legge così che del governo vediamo se qui gli ci mandano perciò. E ma ce li ha i numeri? E noi non la votiamo ma ce li ha i numeri? Tu pensi che non ce li abbia i numeri? Ma se arriveremo al 2018 o così? No, non arriva al 2018. Io mi chiamo Alfonso. Un caffè. Non arriva al 2018. Al 2018 ci arriva. Non ci arriva? Ascoltate che lo stipendio è...